Allora, piccolissimo video, col capo cosparso di cenere, invece, infatti... Infatti mi vedete in questa veste sciatta con i capelli perché io devo espiare. Ho telefonato a mia sorella stasera e mi è stato fatto notare che, sì la luce sta riscaldando, che nel video dei regali ho scordato i due regali più importanti. Quelli che spaccano, come si suol dire, come dice lei. E in effetti è vero, ma perché era a lavare questo regalo? Le bambine quando l'hanno visto non hanno capito più niente e ci hanno dormito. Le trovate da OBS? Una in bianco e una in giallo. C'è sopra la famiglia Pig e c'è scritto una famiglia felice fa felice la vita. Che sembriamo proprio io, Gianni e la Gianni. No, signora Pig, io non metterai mai un vestito a pua. Che scelta di cattivo gusto. No, vabbè, a parte gli scherzi, è vero. Mi è meravigliato, mia sorella non guarda mai i miei video. Si vede che, visto che erano i regali suoi, voleva sapere che cosa avessi detto. E quindi sono rimasta, insomma, mi è piaciuto tantissimo. Ho visto che sempre da OBS c'è anche la tuta. Però ho detto no, basta Peppa. Basta. Però alle gemelle ho preso un piccolo regalo. Vabbè, una cosa così. Sono andata da Benetton. Devo dire che aspetto i saldi. Proprio perché comunque i prezzi sono alti e vestirne due è sempre difficile. Questa luce è sempre peggio. Però avremo delle cerimonie. Quindi qualcosa inizio a prenderglielo perché non è che ci possono andare nude. E quindi ho preso... Questo non è da cerimonia. È un vestitino così che può usare carino. Ah, è carino. È bianco, celeste e azzurro. E c'è anche con i toni del rosa. Ma non vale la... Insomma, non ne vale abbastanza. Costa 19,95. E poi questo vestito lo vedevo da una vita. Sì, devo andare? Questo vestito lo vedevo da una vita e mi è piaciuto subito. Ed è bellissimo. E ha i bottoncini dietro. Questo qui costa un po' di più perché costa 35,95. Però, vabbè. Come potete sentire... Andiamo a vedere. Qualcuno ha tirato i capelli e qualcun altro. No, vabbè. Non ho luce a sufficienza di là. Io vi saluto. Niente, piccolo video. Per precisazioni. Guardate che... Eh? Che be... Ti viste che bel che l'è? Ciao!